Grazie a tutti da una turbina da più futili ed è dispacciato con una spetta di carrelli elettrici. Un certo domandine è tramita la radio donna di alta. La grande caratteristica di questa macchina è il range di velocità che permette di ottenere. Da velocità bassissime ne vedremo a Marco esibirsi in passaggi che mai erano stati visti prima sulla macchina. Questa è una pericina del programma FRA e altrettanto il passaggio espremamente sposti si mettono assolutamente a forze prova le caratteristiche cinture. Qui, 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 qui. Non si mettono mai in passaggio a questa macchina, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.